Lo scorso anno eri della Virtus Bagheria, quest'anno è tutta una società, cosa ti ha spinto a fare questo salto? Sì, è un salto, nel senso che lo vedo come un passo avanti sia per la mia società, ex società, sia per il Bagheria Cittadelle Ville. La motivazione è facile, cioè quello di ricreare dal basso un'identità a questa società che è stata la società per la quale ho sempre tifato fin da bambino. Mi ricordo quando c'era il mitico Bagheria, io ero là dietro la rete a tifare. L'idea è stata appunto quella di fare una nuova unione per cercare di completarci a vicenda. Noi con un settore giovanile, una scuola caccia che abbiamo curato per tanti anni e il Bagheria naturalmente con la prima squadra del settore giovanile che è voluta a completarsi insieme a quello nostro. Quindi l'idea è quella di portare avanti un'idea unica per Bagheria e far rivalutare il nome di Bagheria a livello non solo di Bagheria stessa ma di tutta la provincia. Un giudizio su questo primo scorcio del campionato? Il giudizio è senz'altro positivo. Siamo fiduciosi per il proseguo del campionato. Siamo alla decima giornata. È pur vero che nelle ultime partite abbiamo affrontato squadre che lottano per vincere il campionato. Ora dovremmo avere un seguito di partite un pochettino più semplice. Sono convinto che con due o tre vittorie di fila saremo sempre là a dire la nostra. Vincenzo, qua vedo nella maglia anche accanto al logo di ASD Bagheria Città e Le Ville anche Accademia Atalanta. Spieghiamo un pochino cos'è questo simbolo nella tua tuta. Diciamo che è un simbolo che vuol dire tanto. Non perché rappresenta l'Atalanta in quanto squadra di Serie A e magari ci serve per fare marketing o per fare pubblicità inutile. Questo simbolo sta per significare un progetto, un progetto con l'affilazione dell'Atalanta. Tanta che forse pochi sanno, nell'ambito del settore giovanile, delle scuole giovanili, è il top in Italia. Noi questo progetto lo portiamo avanti per tanti motivi. Ma il motivo principale è quello di formare i nostri misteri, i nostri tecnici con le metodologie e le conoscenze dei tecnici dell'Atalanta. Diamo l'opportunità ai nostri iscritti di poter seguire determinate direttive da loro consigliatici. Anche con scambi, con diverse scuole calcio, non solo della Sicilia ma di tutta Italia. Ed è sicuramente un'opportunità in più per i nostri piccoli atleti per crescere e avere una crescita completa. Non avete visto dei grossi tabelloni 6x3 all'entrata dell'autostrada per fare pubblicità. Ma quello che ci importa a noi è che sia una cosa in più, che sia utile ai nostri iscritti per essere al 100% formati nelle baggeri città delle ville. E' arrivato il riconoscimento come scuola calcio d'elite. Ecco, questo ci tengo a precisarlo. Siamo una delle 15 scuole calcio all'interno della provincia. Non lo danno a tutti, non è un titolo che danno a tutti, perché bisogna stabilire determinati requisiti. Che solo le scuole calcio, che hanno un tot di mister, un numero di squadre iscritte nei campionati, convenzioni con le scuole. Sono dei requisiti che solo le grandi scuole calci hanno. Noi ci vantiamo onestamente di essere stati così riconosciuti, anche ufficialmente nel comunicato della scorsa settimana, come scuola calcio elite. Siamo gli unici a Bagheria e questo ci rende ancora più in dovere, in obbligo, di dare un servizio migliore ai nostri atleti. Quindi ci sono determinati requisiti che durante l'anno cercheremo di rispettare per confermare questo riconoscimento come segnale di un nuovo inizio con il Bagheria. Grazie